La Lega Salvini in Puglia prosegue il suo lavoro in vista delle regionali e delle amministrative ad Andri e Trani. Nella città federiciana, militanti e simpatizzanti del partito hanno incontrato l'europarlamentare Massimo Casanova nella sala conferenze dell'hotel Ottagono, assieme al coordinatore provinciale Giovanni Riviello, il responsabile enti locali in Cola Giorgino ed il coordinatore cittadino Benedetto Miscioscia. Un incontro per sottolineare ulteriormente il lavoro del partito nel costituire una proposta programmatica che risponda alle esigenze della Puglia e dei pugliesi, mettendo in campo le giuste progettualità per fornire risposte concrete ai cittadini. Diversi i temi esposti nel corso dell'incontro in merito ad una politica superficiale del centro-sinistra negli ultimi 15 anni. Sanità, infrastrutture, turismo, agricoltura, pubblica sicurezza e gestione dei rifiuti sono alcune delle priorità della Lega che intende proporre un nuovo modo di fare politica attraverso un progetto serio e credibile. Presto arriverà un nome anche per la Puglia ma prima ancora i vertici della Lega hanno sottolineato la necessità di una programmazione all'altezza dei bisogni dei cittadini. Sono molto contento perché siamo un partito strutturato, siamo pronti, siamo pronti per la grande sfida. Noi è una grande squadra, siamo riusciti a fare veramente passi da giganti negli ultimi mesi e siamo pronti, aspettiamo il tavolo nazionale di Matteo Salvini che ci dica l'indicazione del candidato e poi si parte. Ad Andria intanto il nome per la poltrona di sindaco non è ancora ufficiale ma poco ci manca. La Lega proporrà Benedetto Miscioscia come candidato qualora non si raggiunga la tanto ambita unificazione del centrodestra possibile solo con un dietrofront di Nino Marmo ritenuto l'unico ostacolo a questa reunion. I vertici della Lega non accetterebbero Marmo come unico candidato sindaco per il centrodestra perché ritenuto responsabile dello scioglimento anticipato del consiglio comunale della seconda amministrazione guidata da Nicola Giorgino. Sono proprio le liste civiche che supportano la Lega Salvini Puglia a chiedere l'ultimo sforzo per la riunificazione. Se ciò dovesse accadere la squadra per il candidato sindaco convergerebbe su un professionista che non si metterà a disposizione dei soli partiti ma esclusivamente della città. Un'impresa al momento difficile ma nei prossimi giorni potrebbero essere sciolte le ultime riserve. Previsto a stretto giro di posta un incontro a livello provinciale con le forze del centrodestra, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Una partita che si giocherà per raggiungere un'intesa comune o per confermare il divorzio tra le parti. A quel punto i nomi in campo sarebbero Miscioscia per la Lega e Marmo per Forza Italia con un possibile outsider di Fratelli d'Italia. Abbiamo un tavolo provinciale aperto con tutte le forze del centrodestra comprese anche le liste civiche qui presenti ad Andria. Stiamo parlando da tempo. Non abbiamo nessuna difficoltà a dire e a rivendicare che abbiamo una classe politica dirigente qui ad Andria che è cresciuta moltissimo. Rivendichiamo il fatto che ad Andria siamo per la prima volta stati presenti in tutto il sud Italia con un consigliere comunale eletto nelle liste di noi con Salvini diversi anni fa e quindi oggi a distanza di anni siamo capaci di avere una classe dirigente in grado di guidare questa città.